Sono Juliana Yerugan, ho lavorato per diversi anni nel mondo della moda e pubblicità. Ho scoperto strada facendo altri interessi che poi si sono trasformati in un lavoro appassionante. Adesso presento eventi legati al mondo del fashion, dell'enogastronomia, raccontando quelle che sono le tipicità regionali alla riscoperta di antichi sapori ed eccellenza. Sui social cerco di avvicinarmi e rappresentare al meglio la vostra azienda. Spero di incontrarvi presto su Facebook, Instagram o anche per un brindisi. Ciao!